Scopri il primo rinascimento. Le mani affusolate, il viso gentile e il fondo dorato sono i tratti inconfondibili della pittura di Simone Martini, uno dei maestri del tardo gotico italiano. Gli ornamenti delle vesti, le aureole in pastiglia e i motivi geometrici del trono sono solamente alcuni dei preziosismi che abbelliscono l'Annunciazione del 1333. Il messaggio dell'Arcangelo Gabriele viene circondato da un'atmosfera sacra, soprannaturale e sospesa nel tempo. Questo linguaggio trecentesco, caro soprattutto alla pittura senese, viene spazzato via da un altro toscano, Piero della Francesca, rifondatore del linguaggio artistico del primo rinascimento. Osserviamo la sua interpretazione pittorica dell'Annunciazione, realizzata per la Cimasa del Politico di Sant'Antonio. La patina dorata che illuminava la tavola di Martini è scomparsa, lasciando posto a uno scorcio prospettico. Inseriti tra le ordinate file di colonne corinzie si trovano la Vergine e l'Arcangelo, che occupano equamente la scena in uno spazio proporzionato alle loro dimensioni. I due personaggi hanno un aspetto più umano e reale, meno idealizzato e divino rispetto all'uso gotico. La veste di Maria è più essenziale. Tutto convive in uno spazio misurato, dove misurato è l'uso della decorazione. L'attenzione alla fisicità e alla volumetria degli spazi si vede di riflesso anche nelle ombre, che invece mancano del tutto nell'opera di Martini. Questa avvirata estetica non vuole sminuire il fatto sacro, ma reinterpretarlo alla luce del ritrovato antropocentrismo di origine classica. L'uomo torna a essere centro e misura di tutte le cose e su di lui si modella lo spazio circostante. La fisicità prevale sul soprannaturale, tanto che anche le aureole sono veri e propri dischi concreti, dipinti in scorcio. Anche lo spazio, debitore dell'architettura classica, è solido e reale, reso ancora più verosimile dal giardino con fiori e frutti. Il Rinascimento fa proprio questo. Riprende i concetti classici, ma li rinnova con il linguaggio della prospettiva, da poco messo a punto da Alberti e Brunelleschi. Questo implicitamente comporta l'esaltazione dell'uomo, che con il suo ingegno è in grado di misurare e dominare lo spazio. È curioso ed è solo una coincidenza, ma si dà il caso che proprio il giorno che Piero della Francesca muore, Cristoforo Colombo sbarca nel Nuovo Mondo e con la scoperta dell'America si chiude convenzionalmente il Medioevo e l'età moderna inizia il suo corso.